Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video! Oggi vi farò vedere il nuovo aggiornamento su Adopt Me Vediamo cosa c'è scritto Si parte per l'Australia 3 nuovi animaletti australiani da adottare Nuova ricompensa UGC La medusa Ok Dunque ci sono ben 4 pet 2 con i robux E altri 2 con i bugs Beh qua c'è uno stand dove c'è scritto Assi E qua c'è raffigurato Cioè questo è l'aggiornamento dell'assi egg Dei pet insomma australiani Come il canguro Che vivono questi animali in Australia E qua c'è un castello Con rappresentato un canguro Sono in tutto 3 Ma un altro sta in un altro Cioè Questi pet Non sono tutti e 4 Perché uno sta qua dentro Dunque Allora questo Il coca burra Costa ben 150 robux Che per ora non prenderò Ma più Cioè più Tra i prossimi giorni Le comprerò Poi c'è Il diavolo della taismania Per 1450 soldi del gioco Che lo potrei comprare E il cuoca A soli 750 Io comprerei Il diavolo della taismania Che ho 1797 soldi Ed è bellissimo E vediamolo com'è neon Vediamo sulla rivista Schiviamo diavolo della tasmania Eccolo Vediamo neon Come diventa Ancora mi sa che non l'hanno aggiornato Vabbè Comunque uguale Il coca sempre lo comprerò Nei prossimi giorni Come il coca burra Invece Dobbiamo andare In questo edificio Perché c'è La medusa Il quarto pet Che penso che costi 500 robux Ora vedo Comunque il nuovo pet Sta qua Nei UGC reward E penso che io Lo posso prendere gratis Perché oggi ho comprati altri pet Prendiamoci Una spilla Prendiamoci Questa E mi mancava E Hanno aggiunto Noi articoli Carini Carini Molto carini E poi qua ci sono Le standard chest E gli anti chest Comunque I nuovi items Andiamo su start Vediamo Aspettate Ragazzi ma io ce l'avevo già questi Quanto costa Penso che ognuno costa 100 robux No 59 Cioè insomma Intorno Ah tutti 59 costano Quindi 59 per 5 Dovrebbe fare Ora lo calcolo Aspettate In tutto costerebbe Ben 295 robux Dunque Cioè non economicissimo Però vabbè Comunque ne vale la pena Per prendere questa medusa Che sempre la prenderò Nei prossimi giorni Insomma Sono usciti tutti questi pet E le volevo spiegare In questo piccolo video Quindi iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un bel like Lasciate un bel commento E condividete questo video con tutti Ciao Al prossimo video